arte di cichi ciao bambini come state oggi? volete imparare a disegnare un pulcino? benissimo disegniamo il pulcino che esce dal suo uovo giusto questo piccolo pulcino è appena nato disegniamo il becco e gli occhi gli occhi sono chiusi e ora i piedi ora disegniamo l'uovo rotto uno da questa parte e uno dall'altra sono delle specie di semicerchi con i bordi a zig zag e ora alcuni frammenti qua e là è ora di dare una forma definita ai bordi sì coloriamo un bel giallo questo è un giallo pastello molto carino per un piccolo pulcino sapevi che quando i pulcini nascono per i primi giorni mangiano il tuorlo del loro uovo? non è fantastico? questo prima di iniziare a mangiare cibo vero ma che cibo mangiano i pulcini? sai indovinare? i pulcini possono mangiare molte cose ma la cosa migliore da dargli sono le uova perché le uova hanno proteine e vitamine puoi dargli anche pezzi di pane imbevuti nel latte semi spinaci cavoli e semi di lino tutto questo gli fa molto bene hai mai voluto avere un tuo pulcino a casa? ora sai cosa fare per nutrirlo sapevi che ci vogliono circa 18 settimane per un pulcino per iniziare a deporre le proprie uova? ora usiamo una gradazione più scura di giallo quasi arancione per la parte bassa della pancia e poi un giallo un po più chiaro per creare una sfumatura la sfumatura è bellissima! ora facciamo il becco e usiamo il bianco per la parte più alta ora usiamo l'arancione per i piedi e ora per le uova grigio per la parte interna fra i nostri zig zag lo sapevi che qualsiasi piccolo di uccello si chiama pulcino? non solo i piccoli di gallina anche i nostri frammenti saranno grigi per l'esterno delle uova usiamo un colore quasi bianco continuiamo sull'altro uovo attenzione a non uscire dai bordi ottimo lavoro abbiamo finito! tadaaa! ciao bambini iniziamo a disegnare una piccola mucca carina iniziamo con una forma ovale per la faccia una linea curva e due occhi bene! è stato facile! disegna le pupille e riempile ora disegna delle linee curve per le sue macchie sopracciglia e le corna e delle forme a foglia per le orecchie finisci di disegnare la faccia con il naso e un bel sorriso ora disegniamo il corpo iniziando dalle gambe davanti e poi da quelle dietro ora disegna gli zoccoli benissimo! terminiamo con delle macchie disegna un'ape carina che è la migliore amica della nostra mucca iniziamo a definire i bordi e ora la parte divertente! coloriamo! usiamo un bel giallo acceso per la faccia un'apecchia! 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 adesso ci sono un'apecchia! usiamo un'apecchia! wow è già bellissima ora coloriamo il corpo rimani nei bordi colorare è così bello aggiungiamo dell'arancione alle orecchie e anche sul resto della faccia non è la mucca più carina di sempre? con un arancione più chiaro colora le macchie proprio così e del marrone per gli zoccoli alla fine un bel azzurro per le corna e abbiamo finito ecco bambini la nostra piccola mucca ciao bambini oggi andiamo in viaggio verso il mondo della fantasia perché disegneremo un unicorno per prima cosa inizia col corpo le orecchie e un grande occhio rotondo perfetto ora disegna il ciuffo e il corno magico sì disegniamo una criniera maestosa e un piccolo nasino ora una grande curva per il resto del corpo le gambe davanti e quelle dietro e infine una grande coda soffice abbiamo fatto un ottimo lavoro è tempo di dare al nostro capolavoro una bella linea definita è già bellissimo continua così ora inizia la vera magia coloriamo per prima cosa il viola poi rosso per la criniera arancione e anche del giallo un bel verde un verde più scuro e infine viola quanto è bello il nostro unicorno usiamo l'azzurro per il corno possiamo usare il rosa per gli zoccoli vi state divertendo? coloriamo la coda iniziamo col rosso poi dell'arancione giallo verde chiaro verde chiaro e viola e viola sì aggiungiamo qualche dettaglio finale con un bel rosa ecco fatto bambini l'unicorno più magico di sempre spero vi siate divertiti a imparare alla prossima ciao bambini oggi facciamo dei fiori in un vaso fai un cerchio e poi quattro petali per il fiore e il gambo fai lo stesso per l'altro fiore ottimo continua così fai le foglie fai le foglie e il vaso per i fiori facciamo un bel cuore sul vaso e diamogli un contorno definito e ora e ora la parte divertente coloriamo mi piace un sacco colorare iniziamo a colorare di giallo i cerchi il nostro fiore non sarebbe bellissimo con i petali blu? non sarebbe bellissimo e ora coloriamo i petali dell'altro fiore di rosa il rosa è bellissimo coloriamo il gambo e le foglie di verde non sarebbe divertente aggiungere dell'arancione per il vaso? abbiamo quasi fatto coloriamo il cuore di rosso sì il nostro disegno è pronto e i nostri fiori sono bellissimi iscriviti iscriviti per vedere altri video arte di cichi iscriviti